Dopo un fine settimana di riposo, dovuto alla Via Reggio Cup, torna in campo la Serie D. Tre i derby pugliesi in programma per questo turno. L'alta Mura Capolista ospiterà la Fidelisandria. Il 2024 dei federiciani non è iniziato nel migliore dei modi, ma la sfida del D'Angelo sarà utile per provare a tornare in zona playoff. I Murgiani vorranno invece tenere a distanza le due seconde classificate, attualmente appollagliate a meno tre, ossia Nardò e Martina. I Granata saranno di scena a Gallipoli, in occasione del match che vedrà i padroni di casa tornare a giocare al bianco esattamente otto mesi dopo l'ultima volta. Un derby tutto salentino, cui risultato sembra già scritto, ma il Gallo, intenzionato ad allontanarsi dalla zona retrocessione, sarà galvanizzato dal ritorno a casa. Impegno morbido soltanto all'apparenza quello del Martina, che al Tursi troverà una palmese rigenerata ed imbattuta da inizio 2024. I Campani sono in striscia positiva ed hanno vinto tre delle ultime cinque giornate. Se al secondo posto ci sono appagliate Nardò e Martina, sei punti più in basso si compone invece la coppia Matera-Casarano. I rossazzurri al Capossa giocheranno contro il Grevina e andranno a caccia di una vittoria interna che manca da novembre. I gialloblu, reduci da due pareggi con Andria e Altamura, vorranno continuare a muovere la classifica per schiodarsi dai bassi fondi. In zona play-out le distanze sono cortissime, tra la salvezza e la retrocessione diretta passano appena tre punti. Il Barletta, ritrovatosi in quella porzione di classifica dopo un digiuno di successi lunghissimo, ospiterà il Matera. Non proprio la partita più facile per rialzare la testa per i Biancorossi, che non vincono da oltre tre mesi e che se la vedranno contro la grande rivelazione del girone H. Manfredoni e Bitonto saranno rispettivamente di scena in Campania, i Sipontini in casa del Santa Maria Fanalino di Coda e di Neroverdi a Pagani. Completa il quadro della ventitresima giornata, il match tra Angri e Rotonda.